Facciamo un gioco. Io dico se ho conosciuto bene i dies di settimana. Oves d'induvinare in cinque secondi la risposta a queste domande. Se ire ieri fieste e voi oves lavorato tanto, qual sarà il nome dei di domani? A. Lunis B. Sabade C. Martars Se ire ieri fieste e voi oves lavorato tanto, qual sarà il nome dei di domani? La risposta è giusta e ieri la lettera è C. Vevi se induvinare. Bravs!